Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Hi everyone and welcome back to my channel. Nel video di oggi parliamo delle preposizioni semplici di luogo. Parleremo quindi delle preposizioni a, in, da e per. In questo video non voglio darvi una lista di indicazioni su quando e come usare queste preposizioni, ma vorrei farvi capire il ragionamento che c'è dietro l'uso di queste preposizioni. Perciò dividerò queste preposizioni secondo la loro funzione. Parlerò quindi prima di a, in e da e vedremo le loro funzioni, perché in base al verbo con cui le usiamo cambia la funzione. E poi alla fine del video vedremo la preposizione per, che è la più facile, perché viene utilizzata semplicemente con due verbi, cioè passare e partire. Ok, praticamente vi ho già detto come usare la preposizione per, benissimo. Vediamo degli esempi adesso così ce la togliamo e ci concentriamo su a, da e in. Quindi per è la preposizione più semplice, tra le preposizioni di luogo, perché si usa appunto solamente con questi due verbi, passare e partire. Quindi se io dico parto per Torino, significa che parto alla volta di Torino, cioè verso Torino, per andare a Torino. Un altro esempio con l'altro verbo, passare, è quando torno a casa, passo per il parco. Può significare che io attraverso un parco, quando torno a casa, oppure passo nelle adiacenze di un parco, quindi vicino ad un parco. Adesso veniamo alle preposizioni semplici di luogo, un po' più complesse. A, in e da. Voglio parlarvi di queste preposizioni secondo la loro funzione. Abbiamo quindi tre funzioni. Stato in luogo, moto al luogo, moto da luogo. Stato in luogo, che cosa significa? Significa che l'azione è statica, non c'è un movimento. E quindi dovremmo anche usare dei verbi che sono usati per indicare una posizione statica. Abitare, vivere, stare, restare, rimanere. Tutti questi verbi, insieme poi alla preposizione a o in, hanno una funzione di stato in luogo. Quindi non c'è un movimento, c'è una posizione in un luogo preciso. Quindi in questo contesto utilizziamo la preposizione a quando dobbiamo indicare il nome di una città oppure un'isola piccola. Per esempio, sono a Roma, sono a Milano, resto a Verona, vivo a Torino oppure abito a Capri, abito a Panarea, abito a Hong Kong, eccetera. E poi utilizziamo a anche per luoghi generici, come per esempio casa, scuola, supermercato, negozio, eccetera. Utilizziamo invece in quando abbiamo dei nomi di regioni, nomi di paesi, nomi di continenti e nomi di isole grandi. Resto in Italia, vivo in Veneto, sono in Giamaica. Utilizziamo in anche quando abbiamo una serie di luoghi generici che però hanno delle caratteristiche. Cioè la parola finisce in cia oppure in ria, quindi farmacia, pescheria, macelleria, caffetteria, oppure con parole che finiscono in teca, quindi biblioteca, enoteca, eccetera. E poi anche con un'altra serie di parole che dobbiamo semplicemente ricordarci, quindi chiesa, palestra, ufficio, piscina, ok? Quindi queste preposizioni in e a svolgono la funzione di stato in luogo se sono precedute da verbi statici. Vediamo ora la funzione di moto a luogo. Moto a luogo significa movimento verso un luogo, movimento in direzione di un luogo. Anche qui abbiamo sempre a, in e questa volta abbiamo anche da. In questa funzione avremo dei verbi come andare, viaggiare, correre, tornare. Le regole per a e per in sono le stesse che abbiamo visto prima per la funzione di stato in luogo. Quindi io dirò sempre vado a Roma, vado in Madagascar, vado in Giappone. Per questa funzione moto a luogo abbiamo anche la preposizione da, che è un caso particolare. Perché? Per questa funzione da è seguita dal nome di una persona, quindi non è da più luogo ma è da più persona. Infatti per questo io direi moto a persona invece di moto a luogo. Però questo è semplicemente per farvi capire il ragionamento. Vi faccio l'esempio classico che si fa in questi casi, cioè vado da mia nonna. Adesso questo è un movimento di moto a luogo perché c'è il verbo andare. Però c'è la preposizione da perché dopo c'è una persona, mia nonna. Quindi vado da mia nonna significa vado a casa di mia nonna oppure vado dove si trova mia nonna. Stessa cosa con una frase come vado dal dentista. In questo caso però non vado a casa del dentista, ma vado allo studio del dentista o dove si trova il dentista. Ok? Quindi questo è un uso particolare della preposizione da, che però svolge comunque la funzione di moto a luogo. Perché c'è un movimento verso un posto, ok? Quindi voi dovete concentrarvi sulla funzione della frase, non sulle singole preposizioni. Perché se voi pensate solamente da significa from, no? Per esempio. E allora non capirete perché io dico vado da mia nonna. Ovviamente se voi rimanete bloccati sulla traduzione diretta, l'uso di da come moto a luogo non lo capirete mai. Vi sconsiglio di fare la traduzione diretta nella vostra lingua delle preposizioni. Vi consiglio sempre di soffermarvi sulla funzione delle preposizioni e non sul significato che voi attribuite alla preposizione. Adesso vediamo l'ultima funzione che è quella di moto da luogo. E qui ritroviamo la preposizione da. Quando è un moto da luogo significa che è l'azione opposta al moto a luogo. Quindi se con il moto a luogo io vado da un punto A a un punto B, con il moto da luogo io torno indietro, ok? Quindi da B a A. Con il moto da luogo possiamo utilizzare i verbi venire, tornare, partire. Utilizziamo sempre da più il luogo, quindi vengo da scuola, torno dalla chiesa, parto dalla stazione. Con alcune preposizioni, come avrete notato dagli esempi, è necessario aggiungere l'articolo. Soprattutto quando si tratta di luoghi generici. La stazione, la chiesa, perché in italiano con il sostantivo è obbligatorio utilizzare l'articolo determinativo. E quindi dobbiamo includerlo nella preposizione. Questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia utile, spero che possiate capire un po' meglio l'uso delle preposizioni di luogo in italiano, delle preposizioni semplici di luogo. Se volete guardare altri video sulle preposizioni, recentemente ho fatto un video sulle preposizioni di tempo. E in passato, più indietro nel tempo, ho fatto dei video su tutte le preposizioni semplici e anche su quelle articolate. Se volete andare a vedere questi video, vi lascio tutti i link nella descrizione qui sotto. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!